Il segretario Landini inizia da Civitavecchia questa serie di incontri in relazione all'appuntamento in programma sabato. Sono diversi temi che riguardano la salute sui luoghi di lavoro, insomma tanti temi importanti. A che punto siamo? Siamo di fronte a scelte del governo che stanno tagliando la sanità pubblica, che stanno tagliando i servizi di medicina sul lavoro. E questo per noi è inaccettabile perché aumentano le morti sul lavoro, aumentano gli infortuni. Invece qui siamo in presenza di tagli e addirittura di riduzione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E dall'altra parte siamo di fronte ad una sanità pubblica che è al collasso, le persone corrono il rischio di non potersi curare se non hanno i soldi. E questo è in contrasto netto non solo con la nostra Costituzione ma col fatto che i lavoratori pensionati ogni mese versano contributi per avere un servizio sanitario nazionale decente. E questo per noi rimane un punto fondamentale. Quindi c'è bisogno di investire, di aumentare le assunzioni dei medici, di infermieri, perché il diritto alla salute è un diritto che va assolutamente garantito a tutte le persone, a prescindere dal reddito che hanno. Peraltro la scelta di partire da un luogo simbolo anche in ottica transizione ecologica perché la centrale di Torre Valdelica Nord andrà verso la dismissione per quanto riguarda il carbone. Quindi anche questa motivazione c'è alla base della scelta di iniziare da qua questo percorso? Sicuramente qui è un'esperienza positiva di che cosa vuol dire trovare il modo che investire sulle energie rinnovabili è non solo utile perché si inquina meno e perché c'è un risparmio energetico ma perché si crea anche lavoro e si crea occupazione. Da questo punto di vista anche su questo versante c'è un tema che riguarda le scelte di politica energetica che vengono fatte. Noi non possiamo continuare a dipendere semplicemente da altri paesi per il petrolio o per altre fonti energetiche come il gas. Abbiamo bisogno, visto che abbiamo il sole, visto che abbiamo l'aria, visto che abbiamo il mare, abbiamo bisogno di investire seriamente. In questo senso significa anche costruire quelle filiere produttive per cui ciò che serve per far funzionare le fonti rinnovabili lo costruiamo nel nostro paese e non le andiamo a comprare in giro per il mondo. E queste scelte ancora ad oggi non ci sono e noi ci stiamo battendo perché la transizione energetica sia fonte di costruzione anche di nuovi posti di lavoro. Il progetto dell'eolico offshore che riguarda Civitavecchia potrebbe essere una soluzione? E' sicuramente una soluzione su cui bisogna investire, bisogna che diventi una scelta di sistema. Noi siamo una penisola che appunto è nel Mediterraneo a cui il sole, il vento e il mare non manca, quindi pensiamo che questa sia necessaria fare una scelta che vada in questa direzione. Non mi pare che ancora il governo vada su questa strada e per questo noi stiamo sendendo in piazza. Tra l'altro proprio il settore dei metallomeccanici ha proclamato uno siopero generale di tutta la categoria e proprio il 7 e il 10 di luglio ci sarà questo siopero proprio perché c'è bisogno di politiche industriali capaci di governare e di gestire questa fase di transizione che vuol dire, insisto, investire sulle nuove energie ma creare anche nuovi posti di lavoro e essere in grado che la transizione energetica non sia un problema per chi lavora ma sia un'opportunità di crescita per questo paese e allo stesso tempo questo significa anche tutelare meglio la salute e la sicurezza perché vuol dire abbattere le fonti inquinanti che hanno poi anche conseguenze sulla salute di tutti noi. Giuseppe Casafina inizia da Civitavecchia la serie di incontri del segretario Landini rispetto ad alcune tematiche che saranno affrontate nell'appuntamento in programma sabato indubbiamente è un valore aggiunto quello della presenza del segretario che sta per iniziare per parlare appunto di questi temi. Un valore aggiunto fa capire l'importanza del tema che riguarda tutti quanti, non solo chi lavora, i metallomeccanici piuttosto che di altre categorie. La sanità deve rimanere pubblica, bisogna mettere dei fondi per assumere personale e anche per la sicurezza sui posti di lavoro, più ispettori. E' quello che stiamo chiedendo al governo ma insomma in realtà questo governo e anche a tutti quelli che lo hanno preceduto. La manifestazione di sabato nazionale è importantissima, chiaramente la presenza del segretario sottolinea questo aspetto. E la presenza del segretario in un luogo cruciale anche in ottica transizione Casafina, quindi è anche l'occasione per parlare di quello che può essere il futuro di questa città. con la possibilità per esempio del progetto sull'eolico offshore che indubbiamente sta continuando ad andare avanti e prende piede. E' un progetto che abbiamo voluto insieme a tutto il territorio, quindi insomma non soltanto noi ma insieme a tutti. Ed è un progetto che si concretizzerà, c'è una società che sta iniziando a ragionare. Naturalmente noi diciamo l'eolico poi ha bisogno di costruire una serie di elementi metallici, tutti i componenti che compongono l'eolico. Quella è una cosa che si può fare benissimo a Civitavecchia ed è un valore aggiunto quello. Quindi insomma l'eolico di per sé poi dovrà portare tutto l'indotto di costruzione. Naturalmente Civitavecchia ha anche un porto che deve avere secondo noi una prospettiva polifunzionale, per cui ora la logistica, il cantiere navale su cui c'è un punto interrogativo, sono tutte cose che bisogna mettere insieme a fattore comune perché l'occupazione possa essere tutelata quando ci sarà la decarbonizzazione. L'ingegnere Severini tornando all'eolico ha lanciato un appello, il territorio si prepari anche dal punto di vista delle maestranze che saranno necessarie, d'accordo? Serve formazione, serve una mappatura di tutti i profili, di tutti i lavoratori che andranno rioccupati e naturalmente tutto lì deve iniziare, il ministero su questo deve dire un qualcosa, deve iniziare a convocare il tavolo specifico e parlare con tutte le parti sociali perché le cose da discutere sono tante e complesse.